E' un'altra cosa. C'erano con l'acqua di mare. Credevano che le sirene, creature malvagie che cantavano dalle isole vicine, fossero le moglie e le figlie che li chiamavano a casa. Erano un pericolo perché ci portavano verso gli scogli. Ma poi cosa avete fatto? Li gettammo in mare. Oh, meno male che non ho bevuto acqua di mare allora. Già. La porta blu. Deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Sta' attento. Che fanno? Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. Il ponte è sparito. Il ponte è sparito. Alla prossima. Il ponte è sparito. Il ponte è sparito. Alla prossima. Sì, finissima un pochino arrivo! Cazzo di massacro! Sì, finissima un pochino! Cosa è accaduto? Credo. Preparati! Deuta! Qui, metti questa! Che problema hanno con noi? Noi non siamo di qui. Noi! 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 Noi!